Capitolo 2. I gradi di gloria. Regni di gloria. È ragionevole credere nei gradi di gloria. Per ogni uomo viene preparato un posto in cui egli sarà ricompensato secondo le sue opere. Per questa ragione Paolo ci insegna che c'è una gloria del sole, una gloria della luna e una gloria delle stelle e come le stelle riferiscono in grandezza così è per la resurrezione dei morti. Tuttavia tutti gli uomini devono pentirsi perché ogni ginocchio deve piegarsi e ogni lingua confessare che Gesù è il Cristo. Nessuno è esente da questo ordine che alla fine verrà emanato. Quasi universalmente si insegna che l'uomo o si salva nel regno di Dio o viene gettato nell'inferno. Egli verrà a trovarsi al cospetto di Dio o in presenza del diavolo. Non è prevista nessun altro luogo in cui possa andare colui che è degno della presenza del Signore ma che tuttavia non è meritevole di scontare la condanna con Lucifero. Questa concezione è forse coerente? Riflettendoci seriamente possiamo credere che il nostro Padre Eterno, anche giusto e saggio, abbia basato la salvezza e la donnazione su un tale presupposto? Consideriamo questo interrogativo animati dal buon senso. Tutti i principi del Vangelo sono logici. È stato il Signore stesso che ha dichiarato che nella casa del Padre Suo vi sono molte dimore. Tutti si salveranno tranne i figli di perdizione. È una cosa molto consolante sapere che il Signore salverà tutti i figli ad eccezione dei pochissimi che intenzionalmente si ribellano contro di Lui. Quando i Suoi figli avranno scontato la pena della loro trasgressione, si libereranno dei artigli della Seconda Morte per ricevere un posto da qualche parte in quei grandi regni celesti che sono preparati per loro con diverse glorie e gradi di salvezza. Lo scopo dell'Onipotente è di salvare tutta l'umanità e tutti entreranno nei suoi regni partecipando a qualche grado di gloria, ad eccezione dei figli di perdizione che peccano oltre il potere di pentimento e di redenzione e che perciò non possono ottenere il perdono dei loro peccati. Tutti gli altri si salveranno, ma non tutti avranno lo stesso grado di gloria o di esaltazione. Ogni uomo sarà giudicato secondo le sue opere, le occasioni che ha avuto di conoscere la verità e l'intento del suo cuore. La salvezza celeste. Coloro che osservano tutta la legge e rispettano i comandamenti di Dio erediteranno la salvezza completa nel regno celeste, di cui la gloria del sole menzionata nelle scritture è tipica. Queste persone vincono tutte le cose e ricevono la pienezza delle benizioni, del potere e della gloria del Padre. Anche tutti coloro che sono morti senza la conoscenza del Vangelo o l'opportunità di conoscere è che se avessero avuto da vivi l'occasione di ascoltarlo, lo avrebbero accettato. Sono eredi di questo regno. La salvezza terrestre. Nel regno successivo, detto anche regno terrestre, entreranno tutti coloro che muoiono senza la legge. E sono pure gli spiriti degli uomini trattenuti in prigione, che il figliolo visitò e a cui predicò il Vangelo, perché potessero essere giudicate secondo gli uomini nella carne. Che non ricevettero la testimonianza di Gesù nella carne, ma la ricevettero in seguito. Sono persone onorevoli della terra che furono accecate dagli inganni degli uomini. Coloro che non furono disposti a ricevere la pienezza della sua gloria e coloro che non furono coraggiosi nella testimonianza di Gesù Cristo. Pertanto, essi non ottengono la corona del regno del nostro Dio. La salvezza teleste. Quelli che entrano nel regno teleste, dove la loro gloria differisce come differiscono le stelle in grandezza e che sono innumerevoli come i granelli di sabbia, sono gli empi, gli indecenti, che subiscono la colla di Dio sulla terra, che sono precipitati nell'inferno dove dovranno pagare fino all'ultimo soldo prima che avvenga la loro redenzione. Questi sono coloro che non riconobbero il Vangelo di Gesù Cristo e di conseguenza non poterono negare il Santo Spirito mentre vivevano sulla terra. Essi non prenderanno parte alla prima resurrezione e non saranno redenti dal demonio e dai suoi angeli fino all'ultima resurrezione a causa della loro vita malvagia e delle loro cattive azioni. C'erondimeno anche questi sono eredi della salvezza, ma prima di essere redenti e di entrare nel loro regno devono pentirsi dei loro peccati, accogliere il Vangelo, piegare il ginocchio e riconoscere che Gesù è il Cristo, il Redentore del mondo. Sia nella gloria terrestre che in quella telestre i relativi abitanti saranno limitati nei loro poteri, opportunità e progressione perché, come figli di perdizione, non furono disposti a godere di ciò che avrebbero potuto ricevere. La dannazione teleste. Tutti coloro che saranno stati impuri, che non avranno voluto accogliere la verità e non avranno avuto la testimonianza di Gesù Cristo, dovranno soffrire i tormenti dei dannati finché non saranno purgati dalla loro iniquità, perché il sangue di Gesù Cristo non li purificherà dai loro peccati senza la sofferenza individuale. Malgrado ciò, essi alla fine usciranno dalla prigione. Questi sono il resto dei morti di cui parla Giovanni che non vivranno durante il regno milennario, ma dopo di esso. Essi saranno destinati a un regno conosciuti come il regno teleste e a loro sarà negato il privilegio di dimorare con il padre e il figlio nei mondi senza fine. Considerate le circostanze. Il Signore farà per loro tutto quello che può, ma poiché essi hanno rinnegato il suo potere e hanno dimorato nel liquidità, non potranno ricevere le benedizioni del regno di Dio. Le verità evangeliche insegnate in tutti i regni. A coloro che vivranno nei altri regni che non sia quello celeste, verrà predicato il Vangelo? Sì, tutta la verità è la verità evangelica. E alla fine tutte le anime dovranno conoscere il piano di salvezza, almeno per quanto sarà possibile per loro. Leggiamo che ogni ginocchio dovrà piegarsi e ogni lingua confessare che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Essendo vero questo, allora ogni anima deve sapere qualcosa di Lui. Ma le questioni tenute in serbo per i fedeli e che sono state tenute celate al mondo per decreto divino fin dalla prima creazione della terra, non sarà necessario che coloro che non hanno diritto a conoscerle le conoscono dopo la resurrezione. Per esempio, a coloro che entreranno nell'esaltazione saranno richiesti doveri e alleanze che in nessun modo interesseranno a coloro che non avendo ricevuto la pienezza non entreranno nell'esaltazione. In ogni regno gli abitanti devono sapere di essere stati redenti dalla morte e di avere ricevuto le benedizioni di cui godono grazie alla misericordia di Gesù Cristo. Il Regno Celeste Il Regno Celeste è il Regno di Dio. Il Regno Celeste è il Regno di cui le scritture parlano come il Regno di Dio che agli uomini è comandato di cercare prima di ogni altra cosa. Esso è il posto dove coloro che vi entrano oltre l'immortalità ricevano la vita eterna. L'immortalità è il dono di vivere per sempre concesso a tutti gli uomini. La vita eterna è la vita al cospetto del padre e del figlio ed è il genere di vita che essi posseggono. Era al Regno Celeste cui si riferiva il Signore quando disse entrate per la porta stretta poiché larga è la porta e spaziosa è la via che mena alla perdizione e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta ed angusta è la via che mena la vita e pochi sono quelli che la trovano. Natura dell'esaltazione nel Regno Celeste Tra i figli dei uomini non molti avranno la salvezza che si trova nel Regno Celeste o in altre parole l'esaltazione che li farà i re di Dio e coeredi di Gesù Cristo due figli di Dio. Coloro che ottengono questa esaltazione riceveranno la pienezza della potenza, della forza e del dominio di quel Regno. Essi vincono tutte le cose. Essi sono incolonati sacerdoti e re divengono come Gesù Cristo. Benché questa dottrina sia insegnata dalla Bibbia la maggioranza dei uomini l'ha persa di vista ed è divenuta uno degli insegnamenti particolari della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Paolo ci insegna poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Lo Spirito stesso attesta insieme al nostro Spirito che siamo figlioli di Dio e se siamo figlioli siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Giovanni ci insegna che coloro che hanno osservato i comandamenti del Signore nel loro interesse sono figli di Dio e quando Cristo verrà essi saranno come Lui. E, disse Giovanni, chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come esso è puro. Questo Regno Celeste è governato da una legge immutabile. È soltanto con l'osservanza dei principi del Vangelo e delle leggi che attengono a questo Regno, che si ottengono le sue benedizioni. Poiché la maggior parte degli uomini si rifiuta di camminare in giustizia o di entrare dalla porta angusta percorrendo la via stretta che li renderebbe eredi nella casa di Dio, pochi saranno scelti a ricevere queste supreme benedizioni. Coloro che vincono tutte le cose ottengono la salvezza. Noi stiamo predicando il Vangelo di salvezza nel Regno Celeste. Credo che sarebbe meglio se prendessimo l'abitudine di parlare più di esaltazione che di salvezza. Secondo le scritture che ci sono state date, salvezza per un uomo significa elevarsi al di sopra dei suoi nemici per conquistarli. Qui nemici non significa nemici nella carne, individui, ma significa peccato, trasgressione della legge, e allorché l'uomo vince, si salva. Per mezzo delle ispiazioni di Gesù Cristo ogni anima risorgerà, quale che sia il periodo o la maniera in cui sia vissuta. Anche quelli che per la vita condotta sulla terra saranno classificati come figli di predizione. Riceveranno il proprio corpo e il corpo e lo spirito saranno uniti inseparabilmente. Questa è una dottrina che sembra preoccupare alcuni. Tutti gli altri esseri risorti troveranno posti in uno dei tre grandi regni. Ma per entrare nel regno celeste che è il regno di esaltazione o regno di Dio, come lo chiamano le scritture, uno deve riconoscere la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo e vivere secondo essa, osservandone gli insegnamenti, ricevendone le ordinanze e rimanendone fenere alle alleanze pertinenti alla salvezza. Il profeta dice che un uomo che non sia stato battezzato d'acqua e che in questa vita non abbia ricevuto queste ordinanze può entrare nel regno terrestre o in quello teleste, ma non potrà mai entrare nel regno celeste senza l'osservanza di queste leggi eterne. Ogni regno naturalmente è governato da leggi. Per ciò che riguarda la predicazione del Vangelo noi non dobbiamo occuparci delle leggi del regno telesti e terrestre. La nostra missione è di predicare la salvezza del regno di Dio dove sia Dio stesso che Cristo dimorano, cioè del regno celeste. E tutti i principi del Vangelo che ci sono stati dati appartengono al regno celeste. Ora, naturalmente, se un uomo a causa della sua disobbedienza entra in uno degli altri regni dovrà sempre riconoscere Cristo. Dovrà credere in Lui come nel figlio di Dio. Dovrà piegare il ginocchio perché ogni ginocchio dovrà piegarsi e ogni lingua dovrà alla fine confessare che Gesù è il Cristo. Questo sarà richiesto a tutti e non solo a coloro che sono disposti a osservare i comandamenti e quindi a ricevere l'esaltazione. Questa terra dovrà divenire celeste. Questa terra diverrà un corpo celeste e perciò una dimora idonea ad essere abitata soltanto da esseri celesti. Gli altri dovranno andare altrove, cioè in quei luoghi a cui sono stati assegnati. Questa terra sarà riservata a coloro che avranno diritto all'esaltazione, cioè a mansueti di cui parla il nostro Salvatore, i quali erediteranno la terra. Quando il Signore disse che i mansueti erediteranno la terra, si riferiva a coloro che sono pronti a osservare in giustizia i comandamenti, ricevendo così l'esaltazione. Molte terre celesti. Questa terra sulla quale dimoriamo, come molte terre prima di essa, è destinata a divenire una sfera celeste che i giusti erediteranno per sempre, poiché con questo intento essa fu creata. E dopo che si sarà adempiuto lo scopo della sua creazione mortale, essa sarà coronata di gloria alla presenza di Dio Padre. Come l'uomo anche la terra morirà, ma pur essa sarà di nuovo vivificata e rimarrà nel potere con cui sarà stata vivificata e per tutta l'eternità continuerà ad essere la celeste dimora dell'uomo. Il regno terrestre e teleste. Il giudizio secondo le opere. Credete che tutti accoglieranno il Vangelo ed entreranno a far parte della Chiesa? No. Ci sarà un gran numero di persone così grande che non sarà possibile contarlo, che non riceverà le ordinanze della casa del Signore, le quali lo collocherebbero nel regno celeste e che gli darebbero le benedizioni dell'esaltazione. Queste persone prenderanno posto nei mondi terrestri e teleste dove saranno negate loro molte benedizioni e molti privilegi che sono tenuti in servo per i fedeli. Non tutti i figli del Signore sono degni della gloria celeste e molti di loro sono costretti a subire la sua colla a causa delle sue loro delle proprie trasgressioni. Questo induce il Padre e i Cieli interi a provare dolore e piangere. Il Signore opera in armonia con la legge naturale. L'uomo deve essere redento secondo la legge e la sua ricompensa deve essere basata sulla legge della giustizia. A motivo di ciò il Signore non concederà agli uomini quello che essi meritano, darà, non meritano, darà a loro ciò che essi saranno guadagnati secondo le loro opere. Anche se tutti gli uomini si salveranno, ad eccezione dei pochi figli di predizioni che volontariamente rifiutano la verità, tuttavia il posto e la posizione che occuperemo dipenderanno dalla nostra integrità e dalla nostra volontà che avremo mostrato nell'osservare i comandamenti del Signore. Ogni uomo sarà messo nel posto che gli è proprio secondo le sue opere. Ogni uomo sarà soggetto alla giustizia e verrà messo nel luogo che meriterà secondo quello che egli sarà stato disposto a ricevere. I membri della Chiesa possono andare in qualsiasi regno. Noi godiamo del libero arbitrio e molti, moltissimi membri di questa Chiesa, quando verrà il giorno del giudizio in cui l'uomo sarà giudicato secondo le sue opere, verranno assegnati al regno terrestre, altri regno terrestre, perché questa è la legge che essi hanno deciso di osservare e noi saremo ricompensati secondo la legge che osserviamo. Un uomo che abbia accolto la testimonianza di Gesù nella carne può ereditare uno qualsiasi dei tre regni secondo il grado di fedeltà dimostrato nell'osservanza dei comandamenti del Signore. Se rispetterà tutta la legge egli aprà il diritto e entrare nel regno celeste. Se vorrà ottemperare soltanto una parte di essa rifiutando le alleanze che vigono nel regno celeste, malgrado sia onesto, virtuoso e fedele, sarà destinato al regno dove si troveranno altri uomini onorevoli. Se entra a far parte della Chiesa ma rifiuta la luce continuando una vita di disobbedienza e di corruzione, potrà essere assegnato al regno teleste dove riceverà quelle benedizioni che gli spettano. Coloro che non sono coraggiosi Sono questi coloro che non sono coraggiosi nella testimonianza di Gesù, pertanto essi non ottengono la corona del regno del nostro Dio. Essi entrano nella gloria terrestre. Chi sono? Sono tutti quelli che rifiutano di ricevere la pienezza della verità e o di attenersi ai principi e alle ordinanze del Vangelo Eterno. Essi possono aver ricevuto una testimonianza, possono attestare di sapere che Gesù è il Cristo, ma in vita si sono rifiutati di accettare le ordinanze essenziali per entrare nel regno celeste. Essi, sia perché si sono rifiutati di rispettare il Vangelo pur sapendo che è verità, o sia perché sono stati accecati dalla tradizione o sospinti da altre cause, non hanno camminato nella luce. In questa categoria potremmo giustamente mettere coloro che si rifiutano di prendere su di sé il nome di Cristo, anche se appartengono alla Chiesa, nonché coloro che, quando sono chiamati, non sono disposti ad andare a predicare Gesù Cristo e Lui crocifisso ad un mondo perverso. Questi possono vivere una vita moralmente sana, possono essere onesti, operosi, buoni cittadini e tutto il resto, ma non vogliono assumersi alcuna parte del lavoro che ricade sui membri della Chiesa per portare avanti la grande opera di redenzione del genere umano. Abbiamo conosciuto membri della Chiesa che, percorrendo le vie del mondo e mescolandosi a coloro che non sono della nostra stessa fede, si vergognavano di fare sapere che erano santi negli ultimi giorni. Queste persone non sono certamente coraggiose nella testimonianza di Gesù. Il Signore ha detto Perché se uno si vergognerà di me e delle mie parole, in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gola del Padre Suo coi santi angeli. La salvezza di coloro che non hanno conosciuto la legge evangelica Per mezzo della missione di Gesù Cristo è stata data una legge, cioè la legge evangelica, che è vincolante per tutti coloro che la odono e che vengono a contatto con essa. Tuttavia è stato disposto affinché quelli che non hanno la legge, che non hanno udito il nome di Cristo, che non conoscono il piano di salvezza perché il Vangelo non è giunto fino a loro in nessuna forma, non vengono a trovarsi sotto le stesse restrizioni e la medesima condanna di quelli che la legge hanno avuto. In altre parole, Cristo li redimerà con il suo sangue e non esigerà da loro quello che invece esige da me e da voi. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà. Desidero richiamare la vostra attenzione su qualcosa che ricorre frequentemente nelle scritture e che penso che inoltre spesso è frainteso, cioè la dichiarazione secondo la quale ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà, mi chiedo. Quindi, di noi, credono che se un ginocchio si piega e una lingua confessa, cioè è indice di perdono dei peccati e di libertà da essi che il candidato è pronto per esaltazione? Se così pensate, commettete un errore. Il significato della frase non è affatto questo. Verrà il tempo in cui ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà. E tuttavia la stragrande maggioranza dell'umanità andrà nel Regno Teleste per rimanervi in eterno. Lasciate che vi legga questi versi. Verrà il tempo in cui tutti vedranno la salvezza del Signore, quando ogni nazione, stirpe, lingue e popolo vedranno occhio ad occhio e confesseranno dinanzi a Dio che i suoi giudizi sono giusti. Quando i uomini saranno disposti a confessare che i castigli inflitti loro sono giusti, sarà una cosa meravigliosa ed essi piegheranno il ginocchio e vedranno occhio ad occhio. Ma sentite un po' cos'altro, dice questo profeta, ed allora i malvaggi verranno rigettati ed avranno ragione di urlare, di piangere, di gemere e di dirignare i denti. E ciò per non aver voluto ascoltare la voce del Signore. Ecco perché il Signore non li riscatta. E tuttavia essi confessano. Essi sono infatti carnali e diabolici e il diavolo ha potere su di loro, sì, proprio quel vecchio serpente che ingannò i nostri primi genitori e che fu la causa della loro caduta. Per questo l'umanità divenne carnale, sensuale, diabolica, dotata di conoscenza del bene e del male e assoggettandosi volontariamente al diavolo. Così tutta l'umanità fu perduta e lo sarebbe stata eternamente se non fosse per la redenzione che Dio opera per il suo popolo dal suo stato di perdizione e di decadenza. Quindi, non pensate che sol perché essi piegano il ginocchio e confessano con la lingua o come si legge nelle scritture vedano occhio ad occhio saranno assaltati nel regno celeste di Dio. Questo non la verrà perché saranno giudicati secondo le loro opere e riceveranno il loro domino secondo il disegno predisposto alla giustizia e mitigato dalla misericordia del Signore.